La festa della donna in Abruzzo è stata macchiata dal sangue dell'ennesimo delitto a sfondo passionale. Ieri sera, poco prima della mezzanotte, Daniela Marchi, 53 anni di origine romana, è stata strangolata con un filo elettrico dal convivente Joseph Martella, 57enne di origini francesi, ma abruzzese di adozione. L'esame esterno lascia orientarsi verso questo tipo di modalità retifera, però è tutto da confermare. È stato lo stesso Martella a chiedere aiuto ai vicini dopo aver commesso l'omicidio nella cucina dell'appartamento di via Edoardo De Filippo a Vasto Marina, che condivideva con la donna. All'arrivo delle forze dell'ordine e dei sanitari del 118 non c'è stato nulla da fare per Daniela Marchi, nonostante i tentativi di rianimazione. Martella, che ha aspettato visibilmente in stato di shock che arrivassero i soccorsi, dopo essere stato accompagnato in commissariato, si è avvalso della facoltà di non rispondere ed è stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario. Il PM della procura di Vasto, Giancarlo Ciani, dovrà chiarire il movente che ha spinto Martella a soffocare la compagna, mentre il suo avvocato di fiducia lo incontrerà nel pomeriggio per mettere a punto la strategia difensiva. Altri elementi utili alle indagini dovrebbero arrivare dai rilievi effettuati ieri sera dalla polizia diretta da Alessandro Di Blasio e dall'autopsia della donna effettuata questa mattina dal medico legale Pietro Falco.